Aprire la finestra di camera e trovarsi di fronte una piazzola per l'atterraggio degli elicotteri. È quanto accade alla famiglia Casentini a San Filippo. Accanto alla loro casa, edificata nell'Ottocento, è stato realizzato il nuovo ospedale e soprattutto la superficie di decollo e atterraggio per l'elisoccorso. Nell'unico collaudo dell'elisuperficie finora organizzato, l'arrivo dell'elicottero ha provocato un mezzo finimondo. Sono volate via le tegole del tetto, la cuccia del cane, i panni stesi e alcune piante sono state abbattute dallo spostamento d'aria. Da allora la famiglia convive con l'incubo del ritorno dell'elicottero. Noi ci chiediamo come ad oggi, nel 2014, sia possibile che siano stati approvati dei progetti dove un'elisuperficie si trova a 38 metri da un'abitazione. Questa cosa qui ci lascia veramente sconvolti e inorriditi davanti a tanto disinteresse nei confronti di quella che è la salvaguardia della salute pubblica. Dopo il collaudo, l'elicottero non è più tornato. Il direttore della ASL2, Antonio Durso, ha detto che l'elisuperficie non verrà attivata subito con l'apertura del San Luca, ma in seguito dovrà comunque essere resa funzionante. Ma la famiglia Casentini non si arrende e si è rivolta ad un legale. E non c'è solo l'elicottero. Immediatamente sotto casa è stata realizzata anche una vasca volano per la raccolta delle acque in caso di pioggia abbondanti, una specie di palude, anche questa sotto le finestre. Per questa famiglia l'arrivo del nuovo ospedale non è stata una festa.